Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie. Intanto sino alle 18 di sabato le linee 59 e 86 da Corso Ferrara, Angolo via Traves, proseguono per Corso Ferrara, Corso Scirea, via Druento, percorso normale. Vediamo le notizie di domani, mercoledì 6 giugno domani e sino al 10 giugno al Parco del Valentino, il Salone dell'Auto. Alle 21, Santa Messa in Duomo, ufficiata dall'Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia e a seguire la processione del Corpus Domini, da Piazza San Giovanni per Via della Basilica, via Palazzo di Città, chiesa del Corpus Domini. Dalle 17 alle 19 l'Agenzia delle Entrate incontra i cittadini, funzionari si troveranno presso la direzione regionale in Corso Vinzaglio, Sala Castello a disposizione per le domande dei cittadini. Dalle 8 di domani sino alle 18 di sabato, le linee 11 e 77 subiranno deviazioni di percorso in zona Largo Grosseto. È tutto, buona serata, buon viaggio.